Lo avete definito uno scempio stradale con buche in molte strade cittadine, a chi o a cosa attribuite la responsabilità? Questo nasce ormai quasi da poco più di un anno e mezzo fa, nell'estate del 2016, quando con una tecnica rivoluzionaria, secondo le parole dell'assessore Fanesi, molte strade Fanesi sono state appunto rivestite da una specie di slurry seal, cosiddetta questa tecnica, cioè praticamente un tappetino molto sottile in realtà di asfalto, con alcune particolarità chimiche e fisiche che avrebbero dovuto dare un risultato ottimale, ma che purtroppo, come si vede anche in questi giorni, ha lasciato di nuovo apparire avvallamenti e buche. Purtroppo si era da aspettarselo perché una gara d'appalto di 794 mila euro ha avuto un ribasso del 40%, c'è un'enormità. Un buon amministratore a questo punto avrebbe pensato di approfondire meglio magari la situazione, invece probabilmente il sindaco e l'assessore, ammaliati da questa nuova tecnologia, hanno appunto steso questo tappetino, in pratica che si estende dal rotatore di via Cavour fino alla stazione, e lì il via del 12 settembre praticamente oggi è un campo di battaglia. Poi anche tutta la parte, se vogliamo, di via Roma, risalendo verso le colline interne, fino alla Flaminia. E purtroppo queste e-buche oggi sono molto evidenti. Quindi ecco, un'analisi secondo noi assolutamente sbagliata da parte degli amministratori, che appunto dopo un anno e mezzo, dopo aver speso centinaia di migliaia di euro, ci ritroviamo appunto con questa situazione, che vediamo purtroppo oggi. Stiamo allerta perché è stata appunto oltretutto annunciata dall'assessore Fanese un nuovo piano di asfaltature, vedremo se utilizzeranno sempre questa tecnologia e comunque sicuramente vigileremo noi sia in Consiglio Comunale che direttamente poi durante i lavori per vedere appunto se tutto viene fatto a regola d'arte. Ci chiediamo anche, questa diciamo poca attenzione che risale al 2016, quanto ci è costata? Perché nell'importo totale che il sindaco ha fatto, dei danni fatti appunto dalle piogge e dalla neve, mancava proprio questo dato. Ecco, ci chiediamo se appunto una oculata operazione nell'estate di un anno e mezzo fa avrebbe sicuramente fatto risparmiare anche questi soldi che oggi dobbiamo spendere per gli eventi atmosferici. Grazie a tutti.